È una storia come tante altre, ma particolarmente importante perché riguarda la vicenda probabilmente più dibattuta del momento. Parliamo dei due casi positivi al Covid-19 nel comune di Casa Micciola, che come vi abbiamo raccontato riguardano una famiglia molto conosciuta nel comune termale. Una famiglia stimata per bene, numerosa, che sta subendo quegli attacchi gratuiti che purtroppo molte persone che hanno già contratto il virus sull'isola hanno dovuto subire. Abbiamo raccolto la testimonianza della figlia di una delle due gemelle positive al coronavirus, Imma, intenzionata a fare chiarezza su ciò che è realmente accaduto ai suoi cari, che ormai non vede da oltre 20 giorni in quanto in attesa di un bambino e quindi in isolamento per evitare qualsiasi tipo di rischio. Imma ci ha raccontato la cronistoria di quanto accaduto e di fatto conferma alcuni dettagli che vi avevamo già anticipato. Innanzitutto l'origine del possibile contagio, è stata esclusa l'ipotesi di un contagio al nord in quanto i suoi familiari, che si recavano nel settentrione per motivi di salute, l'ultimo viaggio lo hanno fatto oltre un mese e mezzo fa. Dunque i tempi non coincidono con la comparsa dei sintomi. È molto probabile che il presunto caso zero della famiglia abbia potuto contrare il virus nei riti religiosi di San Giovanni Giuseppe. L'uomo infatti ha preso parte sia alla novena che a una delle messe del 5 marzo. Come al solito non ci può essere alcuna certezza, ma con il venir fuori dei vari casi e solo quando c'è stata la polemica sul focolaio religioso, si è sospettato che ci si trovasse davanti al coronavirus. Nel frattempo, il 9 marzo, il caso zero ha avuto la prima febbricola, 37,2 non di più. Ha avvertito il medico di base spiegando i suoi movimenti, ma il dottore ha completamente sottovalutato la situazione. Pochi giorni dopo, il 13 marzo, la febbre è comparsa alla cognata del caso zero, ovvero al caso 2 di casa Micciola e quindi a una delle due gemelle che si spostava a casa Micciola dai parenti per visite familiari che avvenivano precedentemente all'entrata in vigore delle restrizioni. Tre giorni più tardi, la febbre compare anche alla moglie del presunto caso zero, quindi alla gemella e al caso 1 di casa Micciola. Il medico di base, che è lo stesso per tutti i familiari, aggiornato puntualmente ritiene che non ci siano gli estremi per attivare il famoso protocollo. Ma Imma giustamente non è convinta. Tre persone con sintomi da covid in poco tempo meritano più attenzione. La febbre poi compare anche al suo papà e dunque due coppie sono malate. La situazione preoccupa. E allora intorno al 20 marzo scavalca il medico di famiglia e chiama. La guardia medica di Ischia e Forio, che ascoltate le ricostruzioni della donna, attivano immediatamente il protocollo. Il primo tampone viene effettuato a sua madre, quindi al caso 2, a circa tre giorni dalla chiamata. Tampone che incredibilmente non viene fatto né al marito del caso 2 né agli altri due coniugi. E proprio per i due coniugi, il caso 0 e 1, si aggrava la situazione. L'uomo arriva anche a svenire. Viene allertato il 118, che giunto sul posto quasi si sdegna per la chiamata. Per loro non c'è nulla di grave e vanno via. E dopo qualche giorno peggiora anche la situazione della moglie, che comincia ad accusare problemi respiratori. Viene allora chiesto aiuto ad un medico amico di famiglia, che con tutte le attrezzature necessarie va a casa dei due coniugi e visitando la signora scopre una situazione preoccupante a livello polmonare. Casualmente arrivano nello stesso momento i sanitari per prelevare il tampone proprio alla donna, ma non sono autorizzati a fare trasporto in ospedale. Viene allora chiamata un'altra ambulanza, che giunta sul posto ed effettuata la visita di controllo anche a livello polmonare, ribadisce che non si riscontra alcuna criticità tale da portare la donna in ospedale. Da qui l'ira del marito, forte anche del parere del medico amico di famiglia, e minaccia allora la denuncia. Solo a quel punto il 118 decide di portare la donna al Rizzoli. Tutto questo, pensate, lunedì 30 marzo, e quindi ben oltre le due settimane dalla comparsa dei sintomi. La discussione tra i sanitari si sposta in ospedale, e soltanto dietro l'insistenza del medico amico di famiglia, viene effettuata l'attack che evidenzia grosse problematiche a livello polmonare, e per questo la donna viene immediatamente ricoverata e inquadrata come sospetto covid. Passano un paio di giorni, e i sanitari si ripresentano a casa della gemella della donna ricoverata. Il tampone era stato fatto male, bisognava quindi ripeterlo. Il resto dei fatti lo conosciamo, è risultata positiva giovedì sera, la donna ricoverata al Rizzoli, che ha diverse patologie pregresse. È risultata poi positiva la sorella gemella venerdì sera, lei è in isolamento domiciliare. Ad oggi però, né ai due mariti, né ad altri parenti che da tempo sono in via precauzionale in isolamento, sono stati effettuati i tamponi. Il caso Zero potrebbe essersi persino negativizzato nel frattempo. Una storia incredibile, responsabilità serie del medico di base e di alcuni sanitari e medici del 118, oltre che dell'ospedale Rizzoli. Eppure, a tutt'oggi, nessuno si sbriga a circoscrivere la rete dei contatti. Si tratta di una famiglia numerosa, che vive in abitazioni limitrofe, non la stessa, e che precedentemente ai primi sospetti di coronavirus avevano ovviamente avuto numerosi contatti tra i vari familiari. Davvero è più facile chiudere un intero rione piuttosto che fare tamponi alle persone a rischio? Beh, grazie alla testimonianza di Imma abbiamo capito che ci avevamo visto giusto quando abbiamo descritto questa famiglia quale vittima e non di certo carnefice.